PEGI 12 Spero di ritrovare ogni cosa al suo posto quando se ne sarà andato. Vuoi stare tranquilla, credimi. In realtà siamo dei livelli terribilmente pericolosi. Janos! Chiedi al tuo amichetto se vuole un succo d'arancia! Hanno ragione, i poli si stanno sciogliendo. All'aria di essere un po' imbranato. Tutt'altro! È diventato un ragazzo molto attento!